È passata la nottata, la Milan-Paris San Germain rimane una grande partita, ma non per tutti. Intanto scopriamo il nuovo ruolo di Ibrahimovic nel Milan. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del calcio secondo Giovanni. Vi ricordo al solito di mettere un like al video, di iscrivervi a DNA RossoneroTV e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati a tutto ciò che riguarda il Milan, quindi le notizie in tempo reale, in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre dirette del martedì e giovedì sera, dei nostri pre e post partita, riconoscire tutte le partite del Milan. Vi ricordo che la monitorizzazione è bloccata, quindi se volete fare donazioni potete farlo attraverso Paypal all'indirizzo DNA Rossonero da 1899.com Potete anche lasciare commenti nel chat o in altri video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito con quello che è successo ieri sera. Milan-Paris St. Germain 2-1, una partita che il Milan ha meritato di vincere, pur essendo nata sotto una cattiva stella, visto che dopo 8 minuti il Paris St. Germain era passato in vantaggio, con Screener ex Inter, però ieri era diverso il Milan, il Milan era diverso, non si è accasciato, non si è rinchiuso in se stesso, ma ha iniziato a proporre gioco, ha avuto un'occasione con Musa e poi la seconda occasione è stata una discesa di Liao con tiro di Giroud e poi rovesciato di Liao ha portato il Milan in pareggio. A quel punto partita in parità è equilibrata, ma con il Milan sempre che creiamo qualche occasione in più. È un botta risposta che ha fatto comunque finire un bel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato quasi praticamente solamente il Milan, dal colpo di testa di Giroud che segna il 2-1 e con le occasioni successive su punizione di Ternandez, su altre occasioni di Okafor nel finale partita l'unico lampo del Paris St. Germain è stato un palo esterno colpito dal coreano che è entrato da pochi minuti e ha quasi tempo scaduto. Quindi partita meritata a Mina, poteva finire anche 3-1, ma va benissimo così. Una partita che testimonia quello che alcuni dicevano, tra cui anche sottoscritto, di una squadra che non era vero che era divisa che non era vero che c'erano triti con l'allenatore. Basta andare a vedere risultanza alla fine della partita gli abbracci fra i giocatori, con l'allenatore, il saluto tra Giroud e Pioli, tutte queste cose che erano state già dette e che si sono manifestate sul campo. Logicamente, ieri è stato il Milan titolare dopo più di un mese e si sono visti i risultati. Se la squadra sta fisicamente bene, non ci sono infortunati, la squadra gioca, la squadra è competitiva. Certo non può vincere la Champions League, ma può essere sicuramente competitiva per un campionato. Una squadra che regala 9-10 giocatori a partita non lo può essere. Questo mi sembra anche piuttosto logico. Fra migliori ieri, a parte Leao, grande partita, gol, variazioni sulla fascia, addirittura si è inventato terzino-sinistro alla fine della partita, cosa non si era mai vista. Giroud, sempre determinante e poi presente in diverse azioni ieri sera. Loftucic, che è stato veramente il traino a livello centrocampo, che è praticamente con il centrocampo fatto a Musa da Reinders e Loftucic, che Minan è riuscito a fermare, a bloccare il centrocampo dei Paris Saint-Germain, affidolendo la spinta, che all'inizio era sicuramente molto forte dei francesi, ma che piano piano si è spenta, così come Bappé e Dembélé, che all'inizio abbiamo fatto presagire cose negative. Bene anche la difesa, che a parte la disattenzione nel gol dei Paris Saint-Germain, ha fatto bene. Bene Calabria, che sembra ritornato a livelli post-Covid. Bene Tomori, anche ciao. Ternandez meglio delle ultime partite. Comunque è un bel Milan. Si può vedere anche questo nei titoli dei vari giornali usciti oggi, dal Corriere dello Sport, che parla del Fantastico e Milan dei capolavori, al giornale che parla di impresa Milan, la Repubblica che dice Milan notte da incorniciare, la Gazzetta, supereroi Milan il re sei tu, dal Corriere della Sera, notte di Milan, Mbappé si inchina, tutto sport per Milan, si va anche su giornali francesi, di Figaro, che fa un elogio a San Siro, dicendo che San Siro è impressionante, che atmosfera, abbiamo le vertigini, le tribune infiammate, tutta la partita, che meraviglia. Ditto anche a Mbappé e Musac, che sono rimasti frastornati dal rumore che c'era ieri sera, allo stadio, dal tifo che c'era allo stadio. Non tutti però, logicamente, non poteva essere, altrimenti, farne l'elogio a Milan, invece c'è sempre qualcuno che deve obiettare. Parlo di Ruiu, parlo di Libero Quotidiano.it, Ruiu in cui si prende a pretesto una frase che ha detto, una dichiarazione che ha fatto più ordine post partita, dicendo che alcune volte può essere più, diciamo, quello che il risultato, un confronto fra giocatori, più che quello che l'allenatore può dire. È una testimonianza, una dichiarazione realista, umile anche, di chi sa cosa vuol dire essere allenatori, sa cosa vuol dire svolgere il mestiere dell'allenatore. Alcune volte è più importante un confronto fra giocatori, perché sono loro che vanno in campo, sono loro che devono assistersi, aiutarsi uno con gli altri, piuttosto che un allenatore che dia delle indicazioni che potrebbero anche perdersi nel vuoto se non c'è compattezza di squadra, se non c'è connessione tra un giocatore e l'altro. Ebbene, per questo, Ruiu dice che Pioli ascolta la squadra e ritrova il suo Milan, senza l'aiuto di Ibrahimovic. Il libro continua a punti, invece va più avanti ancora, dicendo che con il titolo Milan chiusi nello spogliatoio senza Stefano Pioli. Brutte voci prima di Paris Saint-Germain-Milan. Se si vuole fare semplici articoli, diciamo, mettendo Gizzania, continuate pure, sinceramente. Fino a ieri, il Milan era la squadra a buttare, il Milan avrebbe perso il campionato, l'avrebbe perso la Champions, è una squadra con tantissimi difretti, con un mercato negativo, eppure tutti voi della stampa e anche tutti voi tifosi avete dato i voti da 7,5 a 9 al mercato del Milan, quindi o i giornalisti non capiscono nulla, i tifosi non capiscono nulla, o forse è un periodo che forse non andava tanto bene niente. Quindi un pochino anche di umiltà a riconoscere i meriti di giocatori, di allenatori, quando è il momento, perché è giusto anche accusare Pioli se si fanno degli errori, sono stati fatti gli errori, guardiamoci la sostituzione di Adry con Krunic in Milan-Juve, il derby con un modulo di gioco sbagliato, ma bisogna anche fare i plassi quando le cose vengono fatte bene, perché sennò è troppo facile dire brava la squadra quando la squadra vince, male Pioli se la squadra perde, no, perché se uno ha delle colpi al momento della sconfitta, anche le meriti quando la squadra vince. Ieri 75.000, più di 75.000 spettatori, a San Siro esaurito, tanto per cambiare, con un incasso che è stato, che è il settimo di tutti i tempi, con oltre 7 miliardi e 700 milioni, 7 milioni e 700 mila, scusate, euro. E anche a livello di di share televisivo, è stata la seconda partita, Tremessa Medeset, negli ultimi 5 anni dei gironi Champions League, più vista, con il 25% di share, dietro solamente a Paris Saint Germain e Juventus lo scorso anno, con il 26% e poco più di un per cento. Quindi, un minacchia attira anche in televisione, un minacchia adesso si deve predisporre per la partita contro il Lecce, che è una partita altrettanto importante, perché deve costituire la base per ripartire anche in campionato, perché la distanza di 6 punti, di 5 punti, effettivamente, a Inter e Juventus, inizia a essere tanta, quindi non si può perdere altre possibilità. Sapremo in giornata, da Pulisi che cosa ha fatto, se è sommato solamente un crampo, oppure un ennesimo problema muscolare, anche perché la zona, quanto dice Pioli, è la stessa che il fortuna precedente, speriamo di no. E poi, vedremo a questo punto, chi sarà a scendere in campo a Lecce, visto che la partita sarà dispendiosa, e quindi può darsi che qualcosa, qualche cambio sarà fatto. Anche se dopo ci sarà l'ennesima, fortunatamente ultima, una sosta per il nazionale. Passiamo a Ibrahimovic, che ieri è stato a colloquio, circa due ore, con Cardinale. Per quanto riguarda Ibrahimovic, ci sono delle voci, che dicono che Ibrahimovic, non sarà in un organo del Milan, ma sarà un super consulente esterno. Praticamente il suo preponderante, diciamo, attività sarà comunque il Milan, però non farà parte della società Milan, ma aiuterà comunque il Milan, attraverso probabilmente la sua presenza negli allenamenti, la sua presenza a livello psicologico, con la squadra. Ma penso che Ibrahimovic entrerà anche a far parte del mondo Red World, quindi Cardinale farà entrare, penso, Ibrahimovic anche nella sua società, e questo spiegherebbe anche le due ore di colloquio che ci sono state, non limitante solamente al Milan, ma anche altre possibilità di investimento, sia per Ibra, che per il suo eventuale ruolo, anche all'interno di Redbird. Per oggi abbiamo concluso, quindi io vi auguro un buon pomeriggio, vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi a DNA lo so nelle reticuzioni ancora non lo avete fatto, vi do appuntamento a domani, sempre per il mio video, al 14.30, e poi domani sera alle 22 per la diretta del giovedì sera. Buon pomeriggio di nuovo, grazie per avermi seguito e praticamente sempre Forza Milan. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!